Sabato della settima settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che, nella cena, si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù, Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose, Se voglio che egli rimanga, finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù, però, non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma, Se voglio che egli rimanga, finché io venga, a te che importa? Questi e il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. C'è qualcosa di affascinante e di compassionevole nella persona di Pietro. In lui troviamo riflessi i tipici difetti che ci portiamo tutti addosso, mescolati, però, con straordinari slanci, generosi, sinceri, immediati, da cuore puro. Nel Vangelo di oggi ne abbiamo un esempio tipico, perlomeno per la prima parte del suo personaggio. Pietro ha appena finito di parlare di amore e sequela con Gesù risorto, fino a sentirsi dire per tre volte, Pasci le mie pecorelle, ed ecco che con la coda dell'occhio intravede il discepolo Giovanni che li segue, e dice, Signore, che cosa sarà di lui? Anche Pietro è vittima di quello sport così diffuso tra tutti in cui ci sembra irrinunciabile voler dettare le regole della vita e dell'esperienza degli altri. Spiamo la vita altrui in una sorta di irrefrenabile istinto, a mettere in paragone la nostra vita con quella degli altri. Gesù gli rispose, Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi, cioè tu abbi come unica preoccupazione quella di seguirmi, e non di pensare a Giovanni, ma in fondo la Bibbia si apre con l'invidia di Caino che spia il fratello Abele, e si convince che è prediletto da Dio rispetto a lui. Sarà una ferita del peccato originale che tutti ci portiamo dentro, Pietro compreso. Una ferita di gelosia che si cura solo con una più radicale sequela di Gesù. Solo quando ci concentriamo a farci santi, allora smettiamo anche di preoccuparci eccessivamente della vita degli altri. Quando migliorerebbero le nostre comunità, le nostre esperienze ecclesiali, ma anche i nostri posti di lavoro, o gli ambienti che solitamente viviamo, se smettessimo innanzitutto di ragionare come Pietro, e sentissimo invece i difetti degli altri, o il bene che li capita come una grande povocazione a farci santi noi. Troppe volte, invece, l'aria stantia, tipica degli ambienti chiusi, soffoca persino la bellezza delle parole che Gesù ci ha annunziato nel Vangelo. Il rimprovero che subisce Pietro è un invito a convertirci tutti.